Fabbrica di lavorazione di precisione CNC in Cina Dongguan Zhuang Ltd, precedentemente nota come Zhuang Precision Machining Factory, è stata fondata nel 2006 e si trova a Anglitown, nella città di Dongguan, nella provincia di Guangdong, in Cina, con una fabbrica di 6.800 metri quadrati e oltre 100 tecnici specializzati. Ci occupiamo principalmente di produzione, assemblaggio, vendita e servizi di importazione ed esportazione di componenti di precisione. Il nostro team si distingue per la lavorazione di una varietà di componenti di alta precisione e dalla struttura complessa. La fabbrica di Zhuang ospita un'officina di fresatura CNC, torni CNC di tipo svizzero, centri multitasking miltarn, centri di lavorazione CNC a 3 a 5 assi, rettificatrici di precisione, macchine per elettroerosione a filo, ecc. per un totale di oltre 80 set di attrezzature di produzione di precisione. Inoltre, possediamo oltre 20 settembre di dispositivi di prova di precisione, tra cui macchine di misura a video, macchine di misura a coordinate, misuratori di altezza, rugosimetri e spettrometri a fluorescenza raggi X, che forniscono eccellenti capacità di lavorazione e di controllo della qualità. Siamo specializzati nella produzione di componenti da utilizzare in vari settori industriali come l'automotive, la robotica, l'elettronica, il medicale e vari macchinari e attrezzature automatizzati. Negli ultimi anni abbiamo accumulato una ricca esperienza nella lavorazione di vari tipi di materiali, tra cui diversi tipi di plastica, alluminio, acciaio inossidabile, vari tipi di ottone, rame, leghe di titanio e magnesio, ecc. Inoltre, abbiamo collaborato con impianti affidabili che eseguono trattamenti superficiali e termici in modo standardizzato e sofisticato. In genere, impiegano metodi di trattamento superficiale come la nodizzazione ordinaria, la nodizzazione dura, la zincatura, la nichelatura, l'argentatura, la doratura, la cromatura, la spazzolatura, la lucidatura a specchio, il rivestimento a polvere e la verniciatura, ecc. e metodi di trattamento termico come il vuoto, la brillantatura, la carburazione, la nitrurazione e l'invecchiamento sotto sforzo, ecc. Disponiamo di una galassia di specialisti di alto livello incaricati della progettazione, della tecnologia di produzione e della gestione aziendale, nonché di una legione di tecnici ben addestrati. Inoltre, abbiamo stabilito una serie di processi produttivi maturi e un sistema di esecuzione della produzione. Abbiamo ottenuto successivamente le certificazioni ISO 9001, 2015, ISO 14001, 2015 e IATF 16949, 2016, garantendo il nostro impegno per l'eccellenza nella gestione della qualità e nelle pratiche di produzione sostenibili. Fin dall'inizio, la nostra azienda ha aderito al suo motto aziendale noto come Attenzione all'uomo, innovazione costante, qualità superiore, consegna rapida e cliente al primo posto, e ha compiuto sforzi strenui per creare un ambiente di lavoro sano e armonioso. Oltre a creare una piattaforma per uno sviluppo di carriera sostenibile per i suoi dipendenti, L'azienda si è aggrappata al suo credo morale caratterizzato da buona fede, praticità e creatività nel perseguimento di una situazione vantaggiosa per tutti, nel tentativo di impegnarsi per la soddisfazione dei clienti e l'espansione del business, siete invitati a visitare Chuang Precision. Non vediamo l'ora di collaborare con voi, contattateci oggi stesso per il vostro progetto di lavorazione personalizzata. Il team Chuang lavorerà fianco a fianco con voi.